grazie a simone e a wheel up abbiamo finito il montaggio adesso facciamo un po di chilometri le proviamo e ci si rivede in redazione ciao ciao a tutti da maurizio benvenuti nello studio di moto punto it e di recensito oggi mi rivolgo a chi vuole aumentare la capacità di carico della propria moto adventure che sia un africa twin della onda come quella che ho utilizzato io oppure perché no anche una r1250 gs di bmw una vstrom di suzuki un adventure di ktm una trk di benelli oggi parliamo di valigie e di borse quindi borse laterali e bauletti e poi perché no un breve accenno anche a un top case quindi un borsa da serbatoio morbida davvero molto interessante ecco ci rivolgiamo a chi ha la ricerca di un prodotto di qualità e quindi di un'azienda come shad la vediamo qua che da oltre 40 anni produce questo tipo di accessori per moto ed oggi con grande piacere vi parlo di un nuovo una nuova linea che si chiama terra terra come la voglia di andare in fuoristrada ma anche come la madre terra e come potete vedere da quanto sono sporche ovviamente ha recensito le abbiamo provate per circa 500 600 chilometri quindi lavoro stressante a temperature anche molto basse e per tanti chilometri anche in condizioni di neve e di pioggia come poi potete vedere dalle immagini a corredo ma arriviamo finalmente alla descrizione del prodotto vi parliamo appunto di shad terra con quattro prodotti in particolari tre la tr 36 borsa che vediamo qua alla mia sinistra poi la tr 47 sempre borsa laterale che invece vediamo alla mia destra e poi per quanto riguarda invece i bauletti posteriori abbiamo l'esemplare qua il tr 48 ma andiamo subito a fare un breve cappello introduttivo intanto borse prodotte 100 per cento in barcellona con quali materiali intanto alluminio di 1,2 mm molto sottile che va a comporre tutta diciamo la struttura della borsa quindi la parte frontale la parte posteriore e poi questi nuovi ganci che vi andrò a descrivere ma poi acciaio a easy 300 04 per invece le aperture e anche la maniglia adesso andiamo a vedere come si apre eccola qua vedete questa è l'apertura che ci permette di avere accesso alla valigia apriamo e vediamo all'interno ho posizionato la felpa di automoto e alcuni guanti con la spondina che si può tra l'altro aprire per migliorare il carico vedete davvero molto pratica cordina plastica che va a bloccare l'apertura e poi abbiamo la comodissima maniglia che si apre in questo modo allora apriamo la maniglia e vedete che io vado a richiudere la borsa e posso tranquillamente e comodamente portare la mia valigia o il mio bauletto a destinazione quindi staccarlo dalla moto e portarlo con me tra l'altro vedete acciaio con maniglia in plastica davvero molto facile come presa e anche molto comoda tra l'altro borsa in alluminio quindi molto leggere di per sé ecco tubi acciaio 20 mm sono i tubi che vanno a costruire li vediamo nel video a corredo li abbiamo visti quando abbiamo montato il nostro kit sulla honda africa twin 20 mm che shad garantisce essere quelli con maggior diametro sul mercato ma andiamo subito ad escrivere i tre ospiti del giorno abbiamo detto tr 36 che è la borsa che vedete qua con me e già che ci sono vi dico una cosa ovvero interessante le borse del lato destro sono già comprensive di rete la rete è quella che vedete qua con me vedete si può ancorare grazie a questi tre asole con il velcro e poi andiamo a bloccarle qua nella parte più alta con questi gancetti la rete tiene bene in posizione tutti gli oggetti che sono all'interno però ci permette anche di accedere lateralmente quindi andare magari a rimuovere dei piccoli oggetti che sono presenti all'interno la borsa così l'abbiamo vista vedete comunque struttura molto robusta ben nervata quindi alluminio leggera però molto molto resistente tr47 invece è la borsa laterale che vedete qua al mio fianco contiene addirittura all'interno un casco integrale ma anche un modulare ovvio ovviamente perché chiuso può contenere anche un modulare e poi anche un demi jet quindi davvero una capienza molto molto interessante stessa capienza l'abbiamo anche sulla bauletto tr48 che vedete sempre qua alla mia destra ecco a proposito di bauletti cosa notiamo notiamo questi comodi ganci che vi permettono poi di posizionare eventualmente una borsa con degli elastici che vanno a contenerla e poi altra cosa a mio parere molto interessante guardando il fondo vedete che ha un bel supporto in materiale plastico che va ad ancorarsi a due tipi di piastre quella in alluminio o quella sempre in materiale plastico per questo vi invito ad andare sul sito di shad dove potete vedere questi due tipi di piastre diverso per quanto riguarda invece il sistema di aggancio delle borse laterali abbiamo quattro ganci quindi abbiamo uno frontale una parte posteriore e poi due nella parte più alta come potete vedere la maniglia va ad agire proprio sul gancio quindi sono davvero molto pratiche ma anche poi si posizionano in maniera molto facile rapida davvero brava shad per quanto riguarda il bauletto tr48 quali sono gli accessori abbiamo lo schienalino schienalino che si compone di due parti sostanzialmente abbiamo una parte più alta e una parte più bassa schienalino che viene venduto a 71 euro e 50 mentre borsa interna perché possiamo anzi vi consiglio di utilizzare sempre all'interno la borsa se volete una sicurezza di tenuta all'acqua quindi tenuta stagna perché ovviamente le borse hanno e le valigie hanno le loro belle guarnizioni però come tutte le valigie in alluminio presentano i rivetti e tutti i rivetti ovviamente possono essere delle e anche le viti le possiamo vedere qua ovviamente le viti possono sicuramente offrire un piccolo passaggio all'acqua allora per questo vi consiglio di acquistare le borse borse interna che viene venduta a 55 euro la rete l'abbiamo detto compresa nella borsa laterale destra non in quella sinistra viene venduta a 9 euro e 98 ecco la borsa interna che importante capire il litraggio riesce a contenere fino a un casco ovviamente se la posizioniamo nella tr47 o nella tr48 ed ha una capacità dai 22 ai 32 litri cosa interessante per concludere la serratura serratura davvero facile da posizionare e tra l'altro la boccola della serratura può essere cambiata davvero in un tempo rapido quindi circa 5 minuti così che possiamo avere la stessa nel caso serratura per il bauletto e anche per le borse laterali in questo caso noi invece abbiamo due serrature diverse e poi ecco come vi avevo anticipato abbiamo un altro gradito ospite gradito perché trovo queste borse da serratura davvero molto pratiche e utili sia nell'utilizzo di tutti i giorni quindi sono in città ho bisogno di del telefono di del portafoglio di altri piccoli oggetti ma anche perché no in autostrada perché riesco a posizionare velocemente senza dover cercarne nella tasca della giacca e quindi magari sono al semafro oppure sono in autostrada al casello piove la situazione non è agevole la borsa da serbatoio mi permette di avere quello che serve quindi portafoglio tagliadino d'autostrada eventuale telefono smartphone o navigatore sempre vicino a me questa è la borsa per esempio è la e 10p prodotto molto interessante come potete vedere all'interno abbiamo le sue cinghie la copertura antiacqua e questa è la struttura interna non è espandibile quindi questo è il suo volume sostanzialmente cosa interessante è che come potete vedere a una piastra con tre viti che vanno ovviamente ad agganciarsi alle tre viti che avremo precedentemente modificate sostituite con tre delle nostre viti sulle corrispettive viti del della piastra del tappo del serbatoio e andiamo ad incastrarla la posizioniamo così e la tiriamo verso la parte posteriore per sganciarla sostanzialmente facciamo la cosa opposta grazie al sistema lo vedete pin system eccolo qua quindi non devo fare altro che tirare questa cordicella che è posizionata verso il manubrio e la borsa si stacca davvero molto rapido la cosa che però vi consiglio di fare è di stare molto attenti nel posizionarlo magari anche in maniera molto veloce e rapida di stare un po attenti perché l'alluminio sulla vernice del serbatoio può entrare in contatto e quindi rovinarlo leggermente quindi state attenti quando andate a posizionarlo altra cosa interessante che apparentemente sembrerebbe non avere ovvero il passaggio per il cavo di alimentazione del nostro smartphone o del nostro navigatore invece ce l'ha è nascosto proprio qua all'interno lo vedete eccolo qua che ha il segno perché qua può uscire il nostro eventuale cavo passare di qua uscire in questa parte vedete è nascosto quindi è bene integrato nella struttura del nostro della nostra borsa da serbatoio altra cosa interessante per accedere alla parte trasparente dobbiamo aprirlo e aprire questo velcro e passare grazie al neoprene alla parte anteriore sicuramente tiene meglio quindi agli agenti atmosferici è un po più laborioso perché non posso accedere dall'esterno ma devo per forza aprire la borsa per entrare ad arrivare al nostro eventuale smartphone o biglietto dell'autostrada ho praticamente concluso come sempre il mio consiglio è quello di andare a visitare il sito di shad che ci ha permesso di essere qui quest'oggi che vedete qua in basso ovvero www.shad.es.it dove troverete tantissimi video tante informazioni manuali di istruzioni manuali di montaggio è davvero molto molto ricco c'è tutto quello che serve da sapere per poter scegliere la borsa o il bauletto che fa il caso vostro e tra l'altro ci sono anche tutte le moto e si può decidere il tipo di moto che si possiede e quindi da lì puoi capire quale borsa montare ho praticamente concluso e allora come sempre continuate a seguire i nostri canali social quindi facebook instagram moto.it automoto.it se siete appassionati di auto e poi maurizio vettor power già in tanti mi scrivete per tantissimi consigli continuate a farlo perché a me fa piacere poi mi raccomando veloci ma con la testa prudenza sempre mi raccomando ciao ragazzi ciao 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 ciao